Amici di Milan.soccer, eccoci con un nuovo appuntamento per l'ora di pranzo, per voi è l'ora di pranzo, ma chi segue questo canale sa che mestiere faccio. E quindi noi qui ci svegliamo molto tardi, ma felici, felici perché il Milan ha vinto, è in testa la classifica, da solo. Allora, abbiamo staccato l'Inter, questa volta la Cito, e poi sotto c'è anche la Juventus. Eh già, avete visto la copertina? Ne parliamo subito, ne parliamo approfonditamente, ma non c'è domenica senza, vero direttore? Senza uno sponsor, e il nostro sponsor ce lo creiamo da soli, è il nostro libro, Romanzo Milan, mi raccomando acquistatelo qui sotto, link in descrizione. Tante domande, e poi vi arriva anche il diploma per veri milanisti, veri rossoneri. Mi raccomando, link in descrizione, e iscrivetevi anche al canale. Allora, arriviamo, arriviamo al dunque, arriviamo al dunque perché abbiamo tanto da dire, volevo provare a fare delle pagelle, ma prima devo rispondere ad alcune questioni. Allora, la prima questione riguarda chi ieri mi ha scritto, commentando, che il mio servizio, video, chiamatelo come vi pare, quello, per intenderci, che ho pubblicato intorno alle 16.30, perché l'alle 17, beh, comunque l'ultimo video, ah, ma vuoi capirne più di Piori? No, questo è un video di cuore, è un video di un tifoso insieme ad altri tifosi. Però, due cose abbiamo detto in settimana. La prima è che, Teo, attento al giallo, mi raccomando, nel caso, proprio nel caso, Pioli, se fai un turnover, allora che turnover sia, o meglio, chi rischia di non giocare la prossima partita, anche quello voglio dire. E poi, perché turnover? Turnover per, non lo so, turnover per far riposare, per giocatori che riposeranno per 15 giorni? Non lo so. Non mi è sembrato una strategia intelligente, nel senso, non la condivido, ma poco conta questo. Quindi, altro che, noi vediamo bene come sta il Milan, perciò, quando guardate i nostri video, non mi scrivete, ah, ti seguo, ma che cosa stai dicendo? Noi facciamo critica. Sapete cos'è la critica? La critica serve per far crescere. Se tu a un figlio gli dici che va sempre tutto bene, poi si confronta con la società, quello va a sbattere, e allora tu sai che va tutto bene, perché sei primo, perché è il Milan, perché è il club più titolato in Europa dopo il Real Madrid, va sì che va, va bene, ma dobbiamo fare evidenziare queste cose, perché la pressione che mettiamo noi, più altri milioni di youtuber, poi alla fine incide sulle scelte che deve fare la società. Chiusa parentesi, allora, vediamo un po', dicevo, i voti, Mignan, 75 minuti da spettatore, questi tutti, non si supera sul tiro di Dragusin, deviato poi da Reinders, e poi nel recupero si immola, si sacrifica, 97esimo, va bene, così, va bene, sportiello a Torino, sportiello a Torino. Lorenzi, ma, sei, non posso dare più di sei, prende questa munizione, abbiamo preso subito due munizioni, una di Teo Hernandez e l'altro di Firenze, di Florenzi, e devo dire che paradossalmente dopo l'ammunizione ha giocato anche meglio. Ciao, io qui ho indicato un sei, meno, meno, può fare meglio, può fare meglio, non è stata la partita che ricorderemo a vita di Ciao. Tomori, Tomori è tornato a lui, punto interrogativo, solido, momento di forma eccezionale, e poi, quando ha fatto la parata Giroux, lui era lì, statuario, non lo so, io, non debole, per un Tomori, quando c'è Tomori, Hernandez non c'è, è così, forse alla fine vedremo, non dico che è meglio così, ma se deve essere questo, Hernandez, con la Juve forse è meglio trovare una soluzione, non vedo il giovane al posto di Hernandez, forse Florenzi, non lo so, staremo a vedere. Musa era, diciamo così, una delle scelte rivoluzionarie di Pioli, per magari aprire un po' di spazi in avanti, ma Dragosin, veramente una gran partita, ma, ma, assist, man, quindi amici fantacalcisti, Musa assist, quindi gli do un 6,5, 6,5. Adli questa volta non bene, Reinders non bene, Ciukwese non bene, davanti non bene, Jovic male, Jovic direi pochissimi palloni, forse quella mezza rovesciata, chissà, magari poteva andare anche dentro, Adli in cabina di regia all'inizio ha iniziato, non ha iniziato male, è comunque sempre presente nella manovra, però, scusate, però c'è qualcosa che ieri non mi ha convinto, invece poi, anche Okafor, insomma, il reparto offensivo ieri non bene nessuno, direi la sufficienza, forse, forse, ma solo perché è un debole per lui, la posso dare al Leao, ma comunque, c'è da dire sul Leao che l'espulsione del portiere, del portiere Martinez, a parte che si è superato al 65esimo sullo stesso Leao, però la questione va vista in questi termini, va letta in questi termini, cioè che se tu, arbitro, vuoi espellere il portiere Martinez, che voleva andare a segnare e ha bloccato, ha commesso un fallo da espulsione, prima lasci correre l'azione e vedi che tanto Leao da solo, alla fine andava a fare gol, quindi era 2-0 e poi, eventualmente, vedi quello che devi fare. Vabbè, questi sono un po' i voti, non è stato un gran Milan, a Pioli ovviamente ho dato un 5, perché ho dato un 5, perché per me quel turnover non ha avuto nessun senso, onestamente lo dico, l'ho detto ieri, molti di voi hanno confermato, voglio arrivare a un 6 per il semplice fatto, che comunque è primo in classifica, in Serie A, quindi ha ragione lui, quindi per me va bene così Stefano, io sono con te, ma non vedo l'ora che te ne vai, perché sinceramente, in primis, lo dico tutti i video, non è che mi dovete scrivere, ma l'hai già detto, lo ridico tutti i video, in primis perché hai toccato la mia leggenda, la nostra leggenda, la leggenda, e poi perché onestamente il primo tempo è stato una delle più grosse rotture di balle che io abbia subito calcisticamente parlando e un turnover che onestamente non ho capito, tutto qui, però ti do la sufficienza perché sei primo in classifica, bravo, bravi, tutti bravi, tutti bravi, voglio godere la domenica, vogliamo essere tutti felici e poi adesso vediamo perché c'erano, ah sai chi c'erano ieri? No, gli spettatori Altea, sì, no, 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 nello spettacolo c'era gente, è stato divertente, non era divertente, ieri era uno storytelling dedicato alla Belle Epoque, a Parigi, ma c'erano i gufi, i gufetti c'erano, sai i gufetti chi sono? c'erano dei tizi che nel pomeriggio hanno guardato una partita e poi loro, allora non è andata bene, sai, e poi invece hanno guardato la nostra e hanno detto, beh, tanto ha già, uh, 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 passate una buona domenica, un buon pranzo, ora io ho preso il caffè, per me è l'alba, nonostante credo sia mezzogiorno e mezza, qualcosa del genere, tu hai fatto pranzo della domenica? Vabbè, tu ogni cinque minuti mangi, vi vogliamo bene, un bacio da me e da Sangria, il gatto più bello che ci sia, saluta, ciao, ciao, ciao a tutti.